Per Firouge.it Marco Picchio, ho con me Lucia di Fantasie in Silicone. Buonasera. Allora Lucia, Fantasie in Silicone, fa pensare a tutto e niente, raccontaci che cosa, che cosa significa Fantasie in Silicone? Fantasie in Silicone sono il mondo del silicone che sono dolci, cucina, è una nostra passione del mio e del mio marito, quella sulle dolce in generale pasticceria, ma anche sul cake in design, che è la nostra più grande passione. La Fantasie è stata per incertare un nome originale, Silicone era per sponsorizzare ciò che vendiamo e la Fantasie è stato un nome carino, Fantasie in Silicone, suonava bene. Che suona bene? Eh sì. Di cosa vendete? Stampi in Silicone. Di tutti i tipi, di tutte le forme? Di tutti i tipi, di tutte le forme, cake design, faccia coloranti, pasta di zucchero, insomma in alto, mondiamo un po' di tutto. Abbiamo avuto una di un'intervistere anche Stefania, per Modecor Italia, che è stata presente qui oggi nel nostro stand, come in altri venditi che abbiamo fatto e faremo, e viene a dimostrare direttamente lei stessa e far provare anche alla gente i prodotti che noi trattiamo. Allora, una domanda così un po' a giropello. che significa un po' filoconduttore. Quando è nata a questa azienda, qual è il vostro filoconduttore? Allora, questa azienda è il principale di mio marito, sono terza generazione. Ah, quindi che ti hai chiedato. Sì, il cake design è entrato, sono 3-4 anni, lo stampi in Silicone, sono 35 anni che esiste e sono 25 che lo vende il mio suocero e sono 12 che lo vende il mio madre. Quindi è una tradizione familiare. Ah, è un filo lungo. Eh, vabbè, speriamo che continui. Non è maschi show, perciò non hai detto. Vedi, a posto, vedi, vedi. Allora, chiudiamo questa nostra intervista. Io ti dico, come dice Firouche, entra in scena. Allora, chiudiamo questa intervista.